a tutti oggi vorrei mostrarvi quello che mi è arrivato dal sito perline fantasy con cristina si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia devo dire di questo sono veramente contentissima la saluto ciao qui vorrei farvi vedere allora innanzitutto il bracciale acquistato quattro kit in quattro colorazioni diverse al momento ho fatto soltanto questo bracciale nella colorazione rosso e bronzo ecco qui è bellissimo nel kit troverete appunto tutto il materiale che vi serve per fare il bracciale ovvero le minus le arcos le rocai 80 11 0 15 0 gli anellini moschettone questo l'estensione della catena insomma troverete tutto anche ovviamente lo schema in allegato è veramente semplice da fare ma veramente d'effetto e come vi dicevo prima ho acquistato quattro kit in tutto ovviamente non vi mostro i kit vi metto c'è quello che trovate nei kit perché vi metterò nell'info box il video dove cristina appunto vi mostra quello che c'è all'interno ma lo vedete già comunque guardando il bracciale volevo farvi vedere queste bellissime scatoline cristina è stata veramente e bravissima e ha messo all'esterno questi bellissimi i ciondolini ad ogni scatolino un ciondolino diverso qui vedete e le altre colorazioni sono versione total black versione metallic matt blu and opac white versione pastellacqua e pastellilla non vedo l'ora di fare il bracciale in tutte le altre versioni poi ho acquistato anche subito allora e queste perline in vetro da 4 mm color rosso fragola sono in totale 30 pezzi è un bellissimo colore perché non è un rosso è un rosso tenue ecco e poi queste perle svaroschi da 6 mm colore vintage gold e poi l'ero kaito 80 permanent finish galvanize ed alluminium ecco qui e poi cristina negli omaggi è stata veramente carinissima e gentilissima e cri veramente ti ringrazio tantissimo perché mi faccio felice proprio tantissimo però sono stati tanti allora innanzitutto queste bellissime chiusure per bracciali o collane sono veramente bellissime poi questa bustina di rocai 15 0 verdi questi mezzi cristalli da 8 mm anche questi bellissimi poi questo intero filo di cipollotti 3x2 poi un'intera bustina di rivoli cioè tutti a coppie dalla misura 8 mm alla misura 16 mm sono in vetro e sono veramente bellissime colorazioni non li tolgo tutti perché ho paura che si rovinino però guardate qui cioè proprio senza parole veramente poi questo cordoncino con questi cabochon bellissimi con delle rondine ecco qui ed infine il pezzo forte proprio cristina mi ha scritto direttamente dalla repubblica cieca dal produttore al consumatore queste bellissime innanzitutto vi faccio vedere queste bellissime converse ecco qui guardate veramente stupende veramente stupende toglissime sono bellissime sia per farci degli orecchini pendenti che anche dei bracciali poi questo elemento questo è che sono veramente stupendi e anche questo veramente spettacolare bellissimo io ovviamente ringrazio tantissimo cristina per tutti questi omaggi per tutto quello che mi ha fatto arrivare perché sono rimasta veramente veramente soddisfatta e contentissima come sempre come potete vedere cristina il top veramente sia per quanto riguarda le confezioni perché ogni cosa la impacchetta in una carta diversa arancio blu poi scrive anche un piccolo bigliettino insomma mi piace tantissimo io criti ringrazio nuovamente e poi ovviamente nell'info box vi metterò i video appunto dove lei vi mostra i kit e le varie versioni dei bracciali e io non vedo l'ora di fare gli altri al momento io vi saluto al prossimo video ciao a tutti ciao ciao ciao